Musica Benvenuti oggi qui a Televive abbiamo con noi Jeffrey Rosario lui è un evangelista che lavora per il ministerio di Arise che è situato in Oregon negli Stati Uniti lavora sia come insegnante presso la scuola di Arise che anche come missionario evangelista organizzando eventi e predicando la parola del Signore Jeffrey ci vuoi raccontare un po' della tua esperienza di conversione tu sei molto giovane, come hai incontrato il Signore in che modo il Signore poi ti ha guidato a servirlo Jeffrey, would you like to tell us something about your conversion story you are a very young person, how did the Lord reach you and how you decide to serve him? Well it began basically when I was 17 years old tutto è cominciato quando avevo 17 anni, non avevo nessuna formazione religiosa mia madre non mi ha mai istruito nella religione e durante un incontro con una ragazza lei mi ha sfidato riguardo alla Bibbia perché non eravamo d'accordo, avevamo un disaccordo sulla parola di Dio e siccome non sapevo come risponderli mi sono sentito sfidato ad andare verso la parola di Dio e trovare una risposta per poterle rispondere e in quel momento mentre studiavo la Bibbia non stavo cercando veramente di incontrare Gesù ma stavo studiando solo per provare che lei si sbagliava quindi per rispondere alla sfida Ma più studiavo e più, senza rendermene conto, lo Spirito di Dio continuava ad attrarmi verso il Signore e quindi cominciava a lavorare nel mio cuore e a un certo punto mi sono anche dimenticato del motivo per cui stavo studiando la parola di Dio cioè per provare che lei si sbagliava e ho cominciato ad essere appassionato della parola del Signore e ad essere sempre più attratto verso di essa E per accorciare una storia che è molto lunga ci sono voluti due mesi perché io studiando insieme anche ai miei fratelli che si sono uniti a me nello studio della parola decidessimo di servire il Signore di dare il nostro cuore a Lui e quindi di unirci alla Chiesa E successivamente alla nostra scelta di dargli il nostro cuore abbiamo visto dei miracoli accadere quotidianamente, costantemente nelle nostre vite del Signore che ci chiamava veramente a servirlo in tutti i modi E quindi abbiamo cominciato a pregare Signore come vuoi che ti serviamo, dove vuoi che noi andiamo cosa possiamo fare per condividere la nostra fede con gli altri adesso che ti abbiamo incontrato E il problema è che non avevo soldi, non avevo studiato quindi non avevo nessuna diploma, nessuna laurea, nessuna educazione e ho pregato veramente che il Signore mi aprisse le porte dove Lui voleva che andassi Geoffrey, tu avevi solo 18 anni all'epoca e lui mi ha risposto no, 17 ancora continua a dirci la storia E proprio mentre stavo pregando ho fatto una richiesta di iscrizione presso una scuola missionaria ma non avevo soldi per iscrivermi quindi ho pregato, ho fatto l'iscrizione per fede che se il Signore voleva aprisse le porte E avevo solo i soldi per comprare il biglietto di sola andata quindi avevo ottenuto il biglietto di sola andata per andare alla scuola senza soldi, senza possibilità di mantenermi e sostenermi mentre ero là E per comprare quel biglietto avevo speso tutti i miei soldi e i miei amici, le persone intorno a me continuano a dirmi tu sei pazzo, sei sciocco, perché hai fatto una cosa del genere e sei impazzito E l'ultimo giorno prima della partenza, prima che il corso incominciasse ho incontrato qualcuno che mi ha dato 5.000 dollari per pagare la mia iscrizione e mantenermi durante l'anno scolastico Ci sono tanti altri miracoli che potrei raccontare che sono accaduti nella mia vita dopo che ho fatto questa scelta però il punto importante che vorrei che i giovani capissero è che spesso bisogna fare un passo in fede, nella fede rispondendo a una chiamata che il Signore ci ha fatto prima di vedere che si aprono le acque dove noi possiamo poi camminare all'asciutto Questa è la lezione che vorrei far comprendere ai giovani che se il Signore ti mette una passione nel cuore, ti fa una chiamata Perché io non avevo risposto, io non sapevo, io solo sapevo che ciò che aveva cambiato la mia stessa vita E quindi l'unica cosa che avevo era questo desiderio di condividere ciò che aveva cambiato la mia vita ma non sapevo come farlo perché ero ignorante sulla materia della parola di Dio E quindi il Signore ha onorato la mia fedeltà, voler condividere questa cosa e mi ha aperto le porte E questo è successo più di dieci anni fa Adesso è più di un decennio che ho il privilegio di viaggiare in tutto il mondo e poter proclamare la parola del Signore con gli altri E oggi quindi lavoro per un'organizzazione, una squadra che si occupa di formare i giovani per diventare missionari, evangelisti, andare nel mondo e proclamare la parola di Dio E quello che adesso stiamo facendo, il progetto di cui ci occupiamo ora è proprio quello di proclamare la parola di Dio nei campus universitari del mondo E noi facciamo tuto raggio, cioè insegniamo la parola di Dio a giovani che sono di tutti i tipi Atei, giovani di altre religioni, giovani che non hanno nessuna formazione religiosa a volte E questo è quello che mi piacerebbe, che ci fosse qualche giovane anche in Italia che afferrasse questa scintilla, questo desiderio di portare poi nella propria università nel posto dove sta studiando ad altri giovani questo messaggio e quindi far bruciare questa fiamma E l'ultima cosa che vorrei dire è che i giovani che stiamo lavorando questi sono giovani che i giovani hanno stato trasformato e stanno tornando a loro università, a loro città e a loro città e stanno iniziando a spiegare l'esplosione e l'esplosione che hanno spiegato themselves E l'ultima cosa che vorrei dire è appunto che sto lavorando con giovani che una volta che sono stati formati nel corso che io insegno nella scuola dove io lavoro tornano nelle loro chiese, nelle loro università, sui loro banchi di studio e condividono con i loro colleghi, con i loro compagni, con i loro amici studenti tutto quello che hanno imparato e mi piacerebbe tanto che in Italia ci fosse anche questa possibilità Quindi ai giovani italiani voglio dire non aspettate che ci siano delle organizzazioni che ci siano altre persone, che ci sia qualche struttura organizzata che si infiammi, che inizi a avere questo desiderio e a portarlo avanti ma se voi sentite una chiamata rispondete direttamente, personalmente e il Signore benedirà la vostra risposta e vi aprirà la strada per questo Noi siamo qui al JYC e ci sono giovani di tutta Europa che sono venuti qui e che sono appassionati per la parola di Dio e che desiderano condividere la salvezza Se voi invece siete da soli in una piccola chiesa, in qualche posto dell'Italia e vi sentite soli, che non avete nessuno con cui lavorare vi voglio incoraggiare perché invece ci sono altre tante persone che si possono unire a voi Quindi unitevi a questo movimento perché abbiamo bisogno di voi Grazie Geoffrey per il vostro testimonio Grazie Geoffrey, sicuramente ti aspettiamo anche in Italia dove sei già stato qualche anno fa come ospite del congresso dei giovani di fine anno Così potrai raccontare le tue esperienze anche di nuovo di persona e incoraggiare altri giovani Grazie per essere stato nostro ospite a Televive, alla prossima